Salve, mi chiamo Michela Donini ed insegno lingua inglese presso l'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica dell'Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 Tecnico Professionale di Fano. Chi sceglie di iscriversi all'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica decide di investire sulla propria professionalità tecnica, senza però rinunciare ad una preparazione culturale trasversale. Abbiamo scelto tre parole per definire l'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica. Professionalità, occupabilità e versatilità. Professionalità perché i nostri studenti acquisiscono competenze e abilità nel settore tecnico pratico spendibili nel mondo del lavoro. Mondo che richiede figure professionali sempre più preparate nel settore della manutenzione. Occupabilità perché quasi tutti gli studenti trovano lavoro nelle settimane immediatamente successive al conseguimento del diploma. Altri, tra i più brillanti e motivati, si trovano addirittura a poter scegliere tra diverse offerte lavorative. Versatilità perché le competenze acquisite dai nostri studenti permettono loro di inserirsi in diversi settori. Settore dell'impiantistica tecnica, come elettricisti, idraulici o domotici. Nel settore dell'automazione, nel campo della produzione meccanica e meccatronica e nel settore dei ricambi e della progettazione CAD. Per ciò che riguarda la specificità formativa della scuola, metà dell'orario scolastico è dedicato alle attività laboratoriali in cui i ragazzi imparano ad eseguire inizialmente le lavorazioni propedeutiche che spaziano dalla saldatura all'installazione di impiantistica elettrica civile, dai processi produttivi basilari della metalmeccanica alla realizzazione, ad esempio, di schede elettroniche e tanto altro. Tutto ciò prevede anche l'uso, sempre più corretto e puntuale, degli strumenti di misurazione del settore meccanico, come micrometri, comparatori, come del settore elettrico-elettronico, quali tester, multimetri, oscilloscopi e il tutto parallelamente all'utilizzo del PC e dei consueti applicativi. A tal fine sono fondamentali nel biennio iniziale le quattro materie formative di base fisica, laboratori tecnologici ed esercitazioni, tecnologie informatiche e tecnologie tecniche di rappresentazione grafica. Oltre allo studio delle materie tecnico-professionalizzanti, l'indirizzo si caratterizza per un congruo numero di ore dedicate alle discipline dell'area comune, quindi lezioni vengono dedicate allo sviluppo di competenze inerenti, l'uso corretto della lingua italiana, della lingua inglese, delle competenze matematiche, sociali, civiche, al fine di acquisire competenze trasversali che sono indispensabili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la realizzazione personale. Al termine del percorso di studi sono molte le opportunità che si offrono ai nostri studenti. Alcuni scelgono di continuare con il segmento della formazione tecnica iscrivendosi ai corsi degli ITS o a facoltà universitarie di ingegneria, meccanica, informatica o elettronica ad esempio. Non mancano coloro che invece scelgono altre facoltà, la scienza motoria, scienza della comunicazione e quant'altro. Ma lo sbocco prevalente rimane comunque l'inserimento nel mondo del lavoro. E solitamente le occupazioni sono al 100% affini al percorso di studi e questo risultato brillante è anche dovuto ai percorsi di PCTO che sono attentamente studiati dai docenti con le aziende del territorio. Un'ulteriore opportunità da considerare è la recente autorizzazione a partire dall'anno scolastico 2023-2024 di un nuovo percorso quadriennale dell'indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica, unico nella regione Marche e consentirà di conseguire il diploma di Stato con un percorso di quattro anni anziché cinque, permettendo quindi di anticipare di un anno l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria o al mondo del lavoro, mantenendo invariate le finalità, le competenze e gli obiettivi raggiunti. Nell'offerta formativa sono presenti una serie di potenziamenti, quali ad esempio la lingua straniera, anche tecnica, inserita durante l'arco dei quattro anni attraverso l'insegnamento CLIL, la collaborazione con le aziende attraverso un incremento delle ore di PCTO di circa il 30% ed infine la possibilità di scelta da parte dello studente di insegnamenti opzionali durante il biennio finale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!